Comicità, umorismo, ironia, sarcasmo, tutti termini diversi oppure possiamo dire che fanno parte un po' della stessa famiglia. Probabilmente si assomigliano molto. Dal punto di vista psicologico, tutto ciò che fa scaturire la risata, secondo un libro in particolare che ha scritto Freud, comunque se ci riflettiamo, la risata è una sorta di alleggerimento dell'animo. La stessa cosa che può essere vissuta in maniera tragica, drammatica, pesante, che può crearci un conflitto grande, può essere portata a un livello diverso, può essere sublimata attraverso il riso, attraverso questo alleggerimento che è un fatto istintivo. I bambini di fronte allo stupore piangono, poi ridono, a volte piangono e ridono insieme, cadono, si spaventano e poi ridono. È un meccanismo innato nell'uomo. Il riso, per come lo conosciamo, è un meccanismo prettamente umano, che ci racconta sicuramente il fatto che siamo divisi in due parti. Abbiamo una mente che lavora su due livelli. Uno è il livello razionale, logico, e l'altro è la nostra condizione istintiva, la nostra condizione più animale. E chiaramente queste due cose vanno in contrasto l'una con l'altra, perché se la condizione animale è radicata nel terreno e ci fa vivere in maniera istintiva ciò che siamo, d'altro canto la mente razionale osserva a distanza quello che fa la mente stessa, quello che fa il corpo, e ci troviamo in questa dimensione di contrasto. Questa cosa ci fa male e ridere può essere un modo per sollevarci da questo dolore, anche per chiarire questo aspetto così dicotomico fra queste nostre due nature chiuse in uno. Noi siamo due nature diverse chiuse in uno, siamo due menti in una. Il riso, dunque, è un alleggerimento. Sicuramente un trattato sulla comicità di Chaplin ci fa riflettere proprio su questo meccanismo. Io personalmente definisco la comicità, l'ho fatto nel mio libro, come qualsiasi punto di rottura rispetto a un'aspettativa. La nostra mente razionale ci fa vivere secondo aspettative. Un animale non ha aspettative, l'aspettativa diventa parte dell'istinto. L'uomo ha un'aspettativa perché sa che cosa sta vivendo, sa che la sua vita è limitata, ha il senso del limite dal punto di vista proprio matematico, ha una mente che pensa a se stessa. L'uomo purtroppo, o per fortuna purtroppo, conosce la sua vita per com'è, perché ricorda la vita dei suoi cari, perché sa come funziona il meccanismo, sa valutarlo, ma d'altra parte è istinto, è animale. Queste due cose a contrasto creano l'aspettativa. E l'aspettativa sul futuro, appena viene rotta, può far piangere o può far ridere, come diceva Freud, per alleggerimento. L'esempio comico di Chaplin è un signore ben vestito, con un bel cappello, un bastone che cammina in strada, e poi a un certo punto, tutto fiero, a un certo punto ha una folata di vento, vola il cappello, lui che corre appresso, e praticamente cade, insomma, fa la figura del coglione, per cui da uomo distinto a imbecille che corre appresso a un cappello per colpa del vento. Questo fa ridere, fa ridere, uno che cade a terra fa ridere. Io personalmente, quando cade qualcuno non mi viene da ridere, però certe volte, mi è capitato una volta all'università, una ventina di anni fa forse di più, una ragazza stava con i libri in mano, correva, a un certo punto inciampa, cade a terra di faccia e volano tutti i libri. Chiaramente intorno ridevano, io invece ho proprio subito l'attenzione per l'eventuale, no, l'ho tirata su, ho cercato... E lei come si è rialzata, ha preso i libri e ha fatto, prima o poi capita a tutti. E l'anno è venuto da ridere, perché ti fanno una ridere di merda, sicuramente, e a te è capitato oggi. Il meccanismo della risata è un meccanismo d'alleggerimento, ogni punto di rottura potenzialmente è comico. Anche, eh, una piccola cosa, anche un tic, eh, una piccola cosa che capita potenzialmente è comico, può essere comico. Ciò che non ti aspetti, lo stupore rispetto a qualcosa che non ci aspettiamo, questo punto di rottura è comico. Dire mare le parole, infatti l'ho detta male, è potenzialmente comico. Fare, eh, tutto il tempo è un tormentone, eh, fastidioso e potrebbe essere comico. Aiuola, queste cose così potrebbero far ridere. Ogni meccanismo di rottura, tranne le rotture quelle... Le rotture più o meno sistematiche, quando ti stupisci perché accade qualcosa che non ti aspetti, potenzialmente è comico. Si crea una tensione, appena la rompi, può far ridere, non te l'aspetti. L'umorismo potremmo leggerlo diversamente, il meccanismo è lo stesso. Però quello che succede, c'è un trattato sull'umorismo di Pirandello, che praticamente racconta, disegna questa signora anziana che si trucca come se fosse giovanissima, no? Ed è una cosa un po' melanconica, un po' triste, un po' ridicola, no? Vedi, sta vecchia, è tutta truccata, adesso è pieno. Adesso invece le vecchie stanno in forma, vedi, certo che parli di c'hanno vent'anni. In realtà, di culo c'hanno vent'anni, poi quando si girano, vedi un mostro, vabbè. Quella è la palestra. Sono uno stronzo. Forse anche questo è comico, forse sono uno stronzo per davvero. Beh, anche quello è un meccanismo che può far ridere, però in qualche modo rappresenta anche una sorta di razionalizzazione della risata, nel senso che c'è qualcosa sotto che ci tocca, ossia il dramma della vecchiaia, la non accettazione del tempo che passa, che poi si risolve con, mi imbelletto tutta e faccio ride, perché, do cazzo vai, c'è 96 anni, ok? Questo meccanismo è potenzialmente comico, ma racconta il disagio dell'uomo, dunque il rapporto fra le due menti, tra la condizione animale e la mente che ragiona sulla vita e dice sto invecchiando, sto finendo questa vita e non riesco a accettarlo, ma d'altro canto rappresenta anche una questione sociale, cioè ci si fa belli per rappresentare qualcosa nella società, agli occhi degli altri, per il giudizio degli altri. Allora, l'umorismo è parte della comicità, sicuramente, rappresenta la stessa aspettativa, stesso meccanismo di rottura, però in maniera un po' più sofisticata, possiamo dirlo? Sicuramente tocca di più la mente razionale, non è una cosa puramente istintiva, come una torta in faccia, no? Da questo punto di vista anche la differenza fra ironia, sarcasmo, umorismo, comicità in senso generico, non dipende soltanto da chi può o deve il comico far ridere, ma dipende pure da chi riceve, perché poi la capacità sottile di capire certi meccanismi ironici è diversa dalla capacità innata nell'uomo, antropologica, di ridere per quello che cade a terra, per qualcosa che succede che ci stupisce dal punto di vista istintivo, animalesco, umano. Sono due meccanismi diversi e anche chi fa il comico deve saper leggere i due aspetti differenti, no? Dipende dal linguaggio che utilizziamo e dal pubblico di riferimento che abbiamo. Mi viene sempre da pensare a questo, di fronte a una persona, a un materialista, un marxista puro, no? E che cazzo da ridi? Cioè non c'è più niente da ridere? Non ti fa ridere più nulla? Perché se tu vedi la vita in maniera... Tenti di vedere la vita in maniera molto strutturata, molto asettica per ciò che è, ossia tendi a razionalizzare al massimo, in maniera molto cinica, non ridiresti quasi più. Poi in realtà anche in quella dimensione così nichilista, così cinica, così asettica, poi c'è sempre spazio per quell'animaletto interno che esce fuori e distrugge quel pensiero così razionale, così freddo e esce fuori il tic e te vi addarite comunque perché la vita è così. Siamo... Siamo strani, vaffanculo. Ma siamo fatti così, come i buffi. Siamo... Siamo...